Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui, direzione, passo da Castello, e poi continuiamo con Cireto e torniamo a casa. Ah Gianni, no ho messo il portafoglio qui, perdo tutto. Comunque quello lì è un gruppo di schizzerà. Eh? Ah si, si, si. Parecchio, eh? Stiamo andando verso il basso della Castello. Stiamo andando. Stai giocati! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.